L'Istituto Nautico di Torre del Greco celebra 60 anni di storia. Mercoledì sera la cerimonia nella suggestiva cornice del circolo nautico con rappresentanti delle istituzioni e del mondo della scuola. Un traguardo importante per un istituto fortemente radicato nel territorio, che rappresenta una tradizione e un'eccellenza. Un parterre importante di relatori per celebrare un passato glorioso e per gettare le basi per i progetti futuri che interesseranno la scuola. Prima della tavola rotonda, protagonisti gli studenti con un'uscita in barca a vela, che simbolicamente testimonia la loro passione per il mare. Sono consigliere delegato alla programmazione scolastica, parlando di una scuola secondaria di secondo grado, porto le veci del sindaco e del professore Ghetano Manfredi, che avrebbe avuto desiderio di essere presente ma non ha potuto per altri impegni. C'è un progetto per il futuro di questa scuola. Quali sono gli impegni in tal senso della città metropolitana? L'impegno è stato immediato del sindaco e della città metropolitana. Il far fonte è quelle che hanno le esigenze di questo istituto, il Nautico. Innanzitutto una convenzione che ha dato l'opportunità nella sede dell'ex pretura di riqualificare gli spazi, adattandoli correttamente e adeguatamente nei criteri anche di rispetto all'agibilità, di performance scolastica, statica e quant'altro, con un investimento di oltre 1.500.000 euro. Consegneremo questa scuola di qui a pochi giorni, entro la fine dell'anno scolastico. Un ulteriore impegno è per la sede IPAM del Colombo, per cui è prevista una progettualità che prevederà per l'importo di 1.560.000 euro la riqualificazione sempre delle facciate, dei servizi igieni, l'adeguamento delle strutture, il rifacimento delle coperture. E ancora, dulcis in funto, l'impegno immediato e tangibile per il prossimo rendiconto finanziato di città metropolitana che impegna una risorsa pari a 6.200.000 euro per andare a riqualificare quelle che sono gli straordinari della magnificenza dei Molini Marzoli. L'Istituto Nautico resta a Torre del Greco, momentaneamente all'ex pretura, ma poi si deve spostare ai Molini Marzoli. E quello che io darò al prossimo sindaco, chi che sia questo del Simone, portate avanti quello che questa amministrazione ha fatto per l'Istituto Nautico. I Molini Marzoli sono della città di Torre del Greco e quindi sono dei nostri cittadini. Noi come ANCI siamo vicini agli istituti di tutta la regione Campania, infatti oggi sono qui a portare il saluto di tutti i sindaci del ANCI all'Istituto Tecnico Navale di Torre del Greco perché per noi è una pietra miliare degli istituti superiori in Campania. È un'occasione importante per consolidare un'amicizia e una collaborazione che esiste ormai da sempre. Gli studenti del Nautico di Torre del Greco sono tra i nostri più valorosi e appassionati studenti e devo dire che in questo modo loro percorrono ancora, solcano ancora la passione del mare, arrivando poi a ottenere delle professionalità che riescono a spendere immediatamente nel mondo del lavoro. Infatti abbiamo un tasso di occupazione dei nostri laureati su queste materie elevatissimo e questo ci inorgoglisce molto. Quindi è un percorso formativo che va nel segno della continuità. Della continuità, della tradizione marittima e della tradizione della mia università, l'Università Partenope, che poco più di cento anni fa è nata come Istituto Universitario Navale. Che valore ha avuto questo diploma nel suo percorso professionale? Io entrai all'istituto nautico nel 73 e ne uscì nel 78 con la votazione di 60 sessantesimi. Quell'anno stesso imbarcai su una nave e ho svolto la mia attività professionale come ufficiale di bordo fino a conseguire la patente di capitano di lungo corso. In quell'occasione io preferivo optare per un'altra professione altrettanto importante che era quella ufficiale delle capitane di porto e iniziai la mia carriera nelle capitane di porto. Sono stato comandante della capitaneria di Torre del Greco, di Ischia, di Torre Annunziata, di Brindisi, di Cagliari e quindi posso dire di aver avuto la possibilità di spendere la mia vita in una professione prima marittima navigante e poi come personale a terra rivolta al mare che era il mio sogno fin da bambino. Ricordo il preside Ciampa, il russo e insomma tanti professori, il professore Sannino, Petronzi, insomma Frulio. Ho avuto grande soddisfazione dalla mia vita professionale e ringrazio loro e le persone come il dirigente scolastico attuale, cioè quelli che nella professione mettono la passione. Quanto ancora è forte e radicata nel territorio questa tradizione? Sicuramente viviamo e operiamo in una realtà dove le attività marittime sono visceralmente collegate al territorio e quindi in questo contesto il connubio istituzionale tra autorità marittima, guardia costiera e l'istituto nautico è un elemento sicuramente imprescindibile. Un suo messaggio ai giovani che intraprendono questa carriera? Un messaggio che do è un messaggio anzitutto di tenacia nel proseguire il percorso di studi e soprattutto di proseguire in quella che è una imprescindibile crescita della propria professionalità, culturale, personale e naturalmente didattica. 60 anni del nautico ma soprattutto 60 anni di persone che hanno creduto nella vocazione marinara del nostro paese, hanno creduto nel mare come importante e preziosa risorsa economica e hanno investito la loro vita, il loro futuro e hanno sognato di appartenere al settore marittimo facendolo spesso in maniera eccellente. Un bel compleanno, 60 anni di vita per un istituto che rappresenta una tradizione e un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza di Torre del Greco ma anche della nostra regione Campania. Questa è una grande famiglia, è una grande famiglia che oltre all'istruzione nei confronti dei suoi allievi costruisce condizioni e trasferisce strumenti e competenze perché appena finito il corso di studi questi ragazzi sono già pronti per le sfide del mercato del lavoro, in questo caso le sfide del mercato del lavoro sul mare. Tutto questo rappresenta per noi un motivo di orgoglio e di soddisfazione che abbiamo voluto anche significare omaggiando per questo evento sia la preside che tutta la comunità scolastica di una targa quale riconoscimento di un impegno che deve continuare e deve continuare a mietere eccellenze nel campo marittimo. La decisione di celebrarne la fondazione nasce dall'idea di dare una giusta importanza a un'istituzione scolastica che ha sempre rappresentato non solo la storia della città ma ha giocato un ruolo fondamentale nel sviluppo economico del territorio e delle città limitrofe. Impegno, perseveranza, lavoro di squadra dei docenti, convolgimento degli alunni e soprattutto tenacia e resilienza da parte della dirigente abbiamo ottenuto dei traguardi a volte molto difficili da ottenere. Uno tra questi è sicuramente la nuova sede. La nuova sede sarà attiva dal prossimo anno scolastico. Sarà una sede che comunque ha tutte le certificazioni di agibilità ed è a norma. Certo c'è la speranza che poi possa essere collocata un giorno l'istituto nautico nella sua sede definitiva che può essere quella più idonea e sempre il nostro sogno di collocarla presso i molini marzoli. Per me i ragazzi sono stati un punto di riferimento, sono stati il cuore pulsante, la linfa vitale di tutta la nostra istituzione scolastica. Quello che posso dire è augurarvi un buon vento, una bella vita e soprattutto di avere tanti successi professionali.